Noi, io nel 2020 ho compulsato le ASLO per acquisire i dati, non abbiamo dati oggettivi, abbiamo dati parziali, pertanto è nato questo tavolo regionale con il supporto del Comitato Difesa Minori e anche con il supporto del Consigliere regionale Cipolletti, il quale già ha depositato un'istanza proprio in ambito, una chiarificazione per quanto riguarda le morti improvvise e le patologie soprattutto per quanto riguarda lo screening cardiologico. La mia opera è quella di voler acquisire dati, ma su tutto e quindi parliamo anche del diabete, parliamo anche dei diversamente abili, ne ho 7247, per quanto riguarda anche le depressioni dei nostri ragazzi, le dipendenze che possano avere l'obesità, quindi il nostro obiettivo del tavolo e acquisire tutti i dati e ovviamente anche quello che è fondamentale delle morti improvvise nel segmento degli ultimi 5 anni e ovviamente le cardiopatie, ma già avevamo fatto richiesta e oggi finalmente completeremo un quadro per tutelare realmente la salute dei nostri ragazzi e per avere contezza sui dati. È un modo di rispondere alle famiglie perché se vi è un aumento, ad esempio come vi è stato ultimamente per quanto riguarda l'autismo o per quanto riguarda anche delle problematiche di obesità e del diabete e da allora dobbiamo realmente acquisire i dati, sino ad oggi non abbiamo dati, io nella mia richiesta ho dati parziali, ad esempio ci sono stati circa 200 accessi nell'Azi di Pescara per quanto riguarda l'obesità, per quanto riguarda gli stati confusionali dei ragazzi, ma non ho dati sulle patologie cardiologiche né tantomeno dati sulle morti improvvise. Il tavolo proprio vuole chiarire questo e saremo il primo tavolo nazionale, saremo la prima regione finalmente ad avere contezza, ribadisco, sui dati. Non possiamo permetterci noi adulti di basare una nostra interrogazione o meno sull'emotività, qui realmente nella tutela, dobbiamo agire con i dati e ovviamente anche lo scettro, quello che sia, alla scienza medica.